La pace in tempi di assenza di conflitto rischia di diventare solo una parola, uno slogan svuotato di significato, un elemento della vita naturale quanto il metabolismo, insomma qualcosa che finiamo per dare per scontato. E che cos'è la pace in tempi di conflitto? Una fragilità che pensavamo fosse molto più solida. La pace diventa una vecchia storiella, una leggenda. Ti ricordi quando c'era la pace? E in quel caso la pace torna ad essere quello che dovrebbe essere un traguardo da raggiungere con sforzi in mani. Oggi parliamo della relazione tra pace e conflitto. Questa relazione è un punto cardine utile a capire meglio quello che sta succedendo dentro e fuori di noi. E quale che sia l'equilibrio che tiene insieme le nostre vite? Beh, quello ha a che fare con la pace, col conflitto, con la natura e con la cultura. In questo Daily Cogito andiamo ad analizzare questi concetti molto complessi e cerchiamo di farlo per bene, come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Ci siamo svegliati un giorno pensando che tutto fosse uguale a ieri, all'altro ieri, al mese scorso e invece ci siamo accorti che la pace non era garantita da qualche forza celeste. E siamo cascati dal pero. Ci siamo accorti che la pace verteva su cardini molto fragili e noi l'avevamo dimenticato. Oggi a me non interessa capire cosa si possa fare per far tornare la pace. Io non sono sufficientemente potente da sapere come si possa risolvere il conflitto in Ucraina, if you know what I mean. Ciò che mi interessa quest'oggi è invece sviscerare la relazione che esiste fra pace e conflitto, usando un altro dualismo che fa parte in modo fondamentale delle nostre esistenze, quello fra natura e cultura. E cercheremo di capire perché Rousseau in fin dei conti aveva torto marcio. La pace non è naturale. E questa idea che ci sembra così fastidiosa è necessaria per comprendere quello che sta succedendo. Quindi prima di lanciarci in questa disquisizione voglio ricordarvi che nel prossimo mese ci sono alcuni eventi importanti che concernono me e questo canale e tutto quello che insomma ha a che fare con la community. Allora mi prendo 20 secondi per ricordarvi due cose veramente importanti. La prima è che ad aprile il tour continua perché ci saranno i miei monologhi, in particolare Quanti giga pesa Dio e il nuovo monologo Le vite di Spinoza. Il 12 aprile a Bologna, i posti sono veramente pochi, sono quasi esauriti quindi andate ad affrettarvi sul sito, trovate il link per prenotare direttamente online. Il 25 aprile a Milano e anche lì i posti sono quasi esauriti e il 26 a Torino e anche quella data sta andando velocemente verso il tutto esaurito quindi poi non dite che non vi avevo avvisati. Il prossimo weekend invece il 26 27 marzo sarò al Garda Con a Montichiari insieme a Dari, ci saranno delle conferenze, ci sarà il firmacopie quindi siateci e poi voglio adesso dirlo insomma perché il gioco della copertina e del titolo ormai può finire tranquillamente, il 7 aprile esce il mio nuovo libro Seneca tra gli zombie per Feltrinelli. È un saggio filosofico a cui tengo molto, che credo sia un libro abbastanza importante per quest'epoca, per quello che stiamo vivendo anche se io l'ho scritto prima degli accadimenti di questi giorni, però insomma troverete al suo interno molti ragionamenti utili secondo me per mettere sotto sguardo critico l'attualità ed è un saggio filosofico che parla principalmente della morte perché siamo tutti così allegri quando si parla di filosofia e soprattutto cerca di capire il nostro, la nostra relazione con alcuni concetti fondamentali del nostro mondo, l'informazione, la comprensione, la scienza, ovviamente un tentativo di definire anche che cos'è effettivamente sta roba che si chiama filosofia. Seneca tra gli zombie, 7 aprile, ci sono già fissate le presentazioni a Schio e Vicenza, il 7 aprile e il 13 aprile e presto arriveranno anche le prossime date, quindi insomma non vedo l'ora di farvelo arrivare fra le mani, voi potete già iniziare a fare i preordini e tutto quanto e grazie a chi deciderà poi di leggerlo. E adesso torniamo alla nostra puntata. L'uomo è nato libero ma ovunque è in catene. Russo scrive questa famosissima frase, forse una delle frasi più famose della storia e della filosofia politica perlomeno, e scrive questo nell'incipit della sua opera più famosa, ovvero il contratto sociale, opera che ha avuto un rilievo enorme nella disquisizione della filosofia politica non solo nel suo secolo ma anche successivamente, che viene discussa ancora oggi e che come vedremo ha avuto un impatto determinante. Una frase, quella lì, l'uomo è nato libero ma ovunque è in catene, che a lungo ho ritenuto valida. Cioè io ce l'avevo pure scritta in camera mia quando ero studente universitario. Ce l'avevo lì, mi piaceva tanto questa frase. E poi piano piano me ne sono allontanato e vi racconterò perché in questa puntata. L'idea espressa da questa frase e dal pensiero russoiano in generale è che allo stato naturale, quindi al di fuori di quella che è la cultura, la società, la civiltà, l'essere umano sia fondamentalmente buono e innocente e che sia la cultura, sia la civiltà a trasformarlo poi. Quindi la politica, il denaro, la proprietà privata, l'economia, le relazioni e tutto quanto siano queste cose che poi vanno a travisare la natura buona e innocente dell'essere umano. È il cosiddetto mito del buon selvaggio. Quindi noi nasciamo liberi e con liberi significa buoni, innocenti, come dei novelli Adamo ed Eva. E però poi è la società che ci fa cadere dall'Eden e va a deviarci, manipolarci e renderci mostruosi. Questa è stata un'idea molto potente nella storia della filosofia. Talmente potente che si è radicata in tantissimi campi del sapere. Ed è un'idea che mette le basi ideologiche della sociologia, per esempio. Perché? Perché se il male, il conflitto, la violenza, la catastrofe hanno radici nella società, quindi nelle relazioni, nell'economia e via dicendo, la filosofia, l'etica, la politica e i comportamenti in generale, fra cui anche i comportamenti economici, sono ascrivibili a fenomeni statistici e probabilistici. È dall'interno di questi fenomeni che noi possiamo derubricarli, incasellarli e comprenderli. Questo è il fondamento della sociologia. Ovviamente la sociologia non ha soltanto questo, ha anche, per esempio, gli studi statistici e popolazionali come quelli di Malthus e tanti altri. Però la base ideologica è proprio quella lì. Tutto quello che avviene è ascrivibile alla società, perché tutto ciò che è culturale è il prodotto dei comportamenti di cui siamo partecipi, vittime o estensori. Questa è l'idea di Russo. Ogni problema, quindi, da questo punto di vista, ogni aspetto della vita è socializzabile e ascrivibile all'educazione, alle relazioni, agli equilibri di potere. Questo aspetto ebbe un enorme vantaggio. Il vantaggio di sottrarre molto potere alla religione, alla metafisica. Perché? Perché se io tolgo dalle mani del prete la comprensione del male, della violenza, della colpa, e lo do in mano a psicologi, statistici, sociologi, di fatto io sto togliendo potere alla religione. E quindi questo è stato un grande processo di emancipazione e secolarizzazione ed è il motivo per cui il pensiero di Russo è parte integrante del movimento dell'illuminismo. Comte e negli Stati Uniti, per esempio, Peirce e altri hanno sviluppato enormemente questo lato pragmatico della filosofia, andando in una direzione molto diversa rispetto alla filosofia continentale di cui ho parlato qualche giorno fa, parlando di Gallimberti, Cacciari, Agamben e il loro pensiero. Recuperate la puntata se non l'avete vista. E dicevo, se il male è sociale, se il male è nella società, allora nella scienza e nella società noi possiamo intervenire per migliorare. E questo è un punto veramente essenziale. Il grande vantaggio, anche da un punto di vista culturale, che l'idea di Russo ha portato. Ma, e c'è un grandissimo ma, l'assunto del buon selvaggio, che ci fa sentire in un certo qual modo vittime irredente del mondo cattivo, ha anche un enorme punto critico. Dimentica che lo stato naturale dell'uomo e del mondo in realtà è il conflitto. E questa è un'evidenza che Russo dimentica per dei motivi molto precisi, ma che noi non possiamo più permetterci di dimenticare. E quindi, con questo atteggiamento, dice Russo fra le righe che la pace è data in natura. Se l'uomo è nato libero e ovunque in catene, al di fuori della civiltà, nello stato naturale, significa che c'è la pace. E noi ci dimentichiamo quindi che la pace, però, non è data in natura, ma è mantenuta culturalmente, grazie a molteplici sforzi che in molti portano avanti per permettere uno stato di non conflitto. E dimenticare questo è un grave danno per le nostre vite. E voglio argomentare proprio il motivo di questo. Ora, l'idea che il conflitto sia l'eccezione culturale alla regola naturale della pace è il risultato del buon selvaggio di Russo, unita a 70 anni di pace data per scontata, in cui non ci siamo mai resi conto di quanto sia difficile, complicato e dispendioso mantenere uno stato di non belligeranza fra gli attori in gioco. Sono questi due fattori. Un fattore che, dicevo, è culturale. Cioè, l'idea che il conflitto sia un'eccezione culturale. Il conflitto è rompe in una natura che di per sé è pacifica. Di questo sono tante le persone convinte, ok? Ancora oggi e ieri ancora di più. Cioè, l'idea che lo stato naturale sia pacifico, libero, naturale, e poi arriva la civiltà, arriva la cultura. Ed ecco che, bam, arriva ogni tanto il conflitto. Laddove la natura viene soverchiata dalla cultura, bam, il conflitto, perché la civiltà è dominio, la civiltà è prevaricazione, e poi ci arriviamo su questo. È importante, importante. Dall'altro lato abbiamo avuto 70 anni, abbiamo avuto la più lunga pace europea di sempre, e questo ci ha portato a convincerci ulteriormente che il conflitto fosse, nella migliore delle ipotesi, dimenticato ed espulso dalla civiltà, nella peggiore una possibile eccezione molto remota. Ok, bene, perfetto. E quando il conflitto è rompe, veniamo sorpresi. Nell'ingenua convinzione che stia accadendo qualcosa che va contro natura, che la guerra sia contro natura. Ma ad essere contro natura è la pace, non il conflitto. Attenzione! Il fatto che sia contro natura non significa che sia male, significa che nella natura vige il conflitto, dappertutto, continuamente. Nella civiltà il tentativo di mantenere la pace è uno sforzo necessario, ricercato, estremamente dispendioso e costoso, che richiede la partecipazione di tutti. Questo lo dice anche Kant nella Pace Perpetua, se volete un libro importante da leggere a riguardo. Mi viene in mente quella citazione di Eraclito, se volete c'è la monografica di qualche mese fa, quando disse che Polemos di ogni cosa è re e tutto quanto comanda. Polemos, in Eraclito, è il conflitto. Ma non è il conflitto armato, meglio, non è solo il conflitto armato. Quello che dice Eraclito è che Polemos è il principio cardine che sta al di sotto di ogni cosa, cioè sotto a quello che viviamo, sotto alle rappresentazioni, sotto alla civiltà, alle leggi, alle regole, alle relazioni, sotto a tutte le nostre convinzioni, politiche, sociali, religiosi, sotto a tutto questo, ribolle il naturale, la naturale conflittualità. Polemos è ciò che dà vita. Polemos è la disparità, è l'incontro degli opposti. Quindi anche filosoficamente non possiamo sostenere che il conflitto sia innaturale. Il conflitto è proprio ciò che dà cardine. Il conflitto è quello che noi vediamo esplodere in natura quando interi sono movimenti geologici, vanno a distruggere, cancellare quella che noi chiamiamo civiltà come storia e via dicendo. Quindi Eraclito, ragazzi, c'ha ragione. È Polemos che sta al di sotto di tutto. Polemos è naturale. È la condizione spontanea della natura. Polemos. Polemos che non tiene conto degli individui, dei bei sentimenti, delle nazioni, della nostra integrità morale, etica o fisica. Polemos, che se ne fotte un po' di tutte queste categorizzazioni, a un certo punto ti spazza via. Polemos è la natura che ti vuole cibo per i vermi, perché l'interesse della natura è mandare avanti questo ciclo universale che chiamiamo il ciclo della vita e che tiene insieme un sacco di cose estremamente maestose, sublimi e devastanti. Polemos. Ogni cosa comanda. Conflitto, da questo punto di vista, è tutto ciò che contraddice il mondo pacificato che noi ci impegniamo a mantenere e spesso poi non ci impegniamo così tanto a mantenere. Ora, considerare in un rovesciamento concettuale, la pace e non il conflitto come naturale, significa portare a due conseguenze. In primo luogo, significa spingersi a un minore sforzo per il mantenimento della pace. Perché se la pace è naturale e non è culturale, se la pace è data e non è artificiosa o artificiale, significa in qualche modo, unendo anche questa idea al fatto che quando c'è tanta pace la diamo per scontata, un po' come quando siamo in salute e diamo la salute per scontata è la stessa cosa, significa che in realtà non solo farò meno sforzi per mantenerla, ma potrei anche convincermi che maggiori gli sforzi culturali, maggiore l'atto di minare alla base la pace. E quindi questo è proprio un fraintendimento. E la seconda conseguenza, che è altrettanto grave, rischiamo di perdere contatto con le parti naturali di noi stessi o degli altri. Quelle parti naturali dentro di noi che chiamiamo istinto, chiamiamo spontaneità, tante cose, stato di natura, che in realtà sono terribili e sono proprio quelle che dovremmo domare. E in questo modo abbassiamo le difese culturali che ci permettono di evitare quella naturale conflittualità. Ed ecco qua il punto su cui vorrei veramente far vertere la vostra attenzione. Questo che ho appena espresso è il motivo per cui Michel Foucault rovesciò quel famoso detto di von Clausewitz. Von Clausewitz scrisse un libro importante di tattica e strategia bellica a fine 800, seconda metà dell'800. E la frase fondamentale di quel libro, che caratterizza proprio von Clausewitz, fu questa. Lui disse che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Foucault rovescia questa cosa e dice nel bellissimo libro Bisogna difendere la società, libro che vi consiglio di leggere con tutto il cuore. Dice, attenzione, no, è la politica ad essere la continuazione della guerra con altri mezzi. In questo modo Foucault esprime esattamente quel concetto antirussoiano che stavo cercando di spiegarvi. La politica, ovvero la relazione diplomatica, mettiamola così, la relazione comunicativa che cerca di pacificare, non è la normalità. È una costruzione culturale. La normalità è la guerra. La nostra civiltà emerge come complessità culturale che cerca di pacificare la naturale tendenza al conflitto e alla guerra, alla violenza. Emergiamo da un sostrato biologico, psicologico che ci spinge al conflitto, l'istinto, la rivalsa, la vendetta, la prevaricazione, il dominio, l'avidità. Noi siamo naturalmente fatti di queste cose. Anche la persona più brava e bella del mondo è fatta di queste cose. Lo vediamo nei bambini e lo vediamo anche in qualsiasi altro ambito in cui la civilizzazione sia un po' meno marcata. E poi arriva la cultura. La cultura con la sua complessità che, innestandosi sulla natura, la cultura non è un altro della natura, è il nostro modo naturale per gestire noi stessi. La cultura si innesta su questa natura e, piano piano, ci permette di dominare al crescere della nostra comprensione del mondo e della complessità che ci compone. E quindi l'idea di Foucault, questo rovesciamento concettuale, interessantissimo, perché ci dice che la politica, quello che vediamo in tempo di pace, è l'eccezione che si installa su ciò che invece è dato, è spontaneo, la guerra. La guerra, il conflitto, c'è. E lo vediamo nei piccoli attriti quotidiani e lo vediamo purtroppo nell'attualità che rompe sui nostri telegiornali e sui nostri giornali, quando il conflitto rompe in senso militare. Ciò che è culturale è proprio ciò che abbiamo sviluppato nel tempo per cercare di dominare, non tanto la guerra in sé, ma le condizioni che portano quella naturale conflittualità all'escalation. L'escalation non è l'escalation fra guerra e conflitto mondiale. La vera escalation che la cultura cerca di anticipare è quella fra belligeranza naturale e conflitto. È lì il valore della cultura. La cultura e la civiltà sono, se volessimo usare insomma un concetto obsiano, quindi di Thomas Hobbes, lo potete trovare nel De Cive e nel Leviatano, ma soprattutto il De Cive, che è un testo straordinario, sono obsianamente le strutture con cui dominare e frenare la bestiale natura che noi abbiamo dentro di noi. Ed è questa la cosa importante da comprendere. Perciò, ben lungi dall'essere un buon selvaggio, l'essere umano, privo di strumenti culturali utili a dominare se stesso, è inevitabilmente preda degli istinti volti necessariamente al conflitto. Perché è scritto dentro di noi quella roba lì. Perché nei nostri geni la mia identità non ha nessun senso. Basta leggere il gene egoista di Dawkins. Una delle idee che è sopravvissuta è che, per la biologia, il fatto che io sopravviva non è centrale. È il fatto che quegli stessi geni vengano tramandati ad essere veramente centrale. La cultura mi permette di non assecondare troppo questo aspetto e riuscire in questo modo a dominare le conseguenti conflittualità che da questo istinto deriverebbero nella mia esistenza. Ecco, questo è fondamentale. La natura è conflittuale perché chiamiamo conflitto ciò che contraddice la culturale costruzione che nell'arco di millenni abbiamo chiamato pace e che oggi si sgretola anche perché abbiamo dato per scontato che essa si sarebbe mantenuta senza i nostri sforzi. Questo è il problema più grande con cui abbiamo a che fare adesso ed è veramente qualcosa su cui ognuno di noi dovrebbe star lì e cercare di riflettere. Abbiamo abbandonato in tantissimi aspetti l'evidenza e la necessità di mantenere la pace nel nostro piccolo. Anzi, guardateci dopo la pandemia, dopo gli ultimi anni, quanto la conflittualità, la polarizzazione sono emerse in modo devastante. Questo è il vero problema con cui dobbiamo assolutamente avere a che fare in modo serio. La cultura è prima di tutto lo strumento che mette a nudo quelle parti di noi stessi che, se dominanti, rischiano di farci cadere in una spirale di sofferenze. Ed è esattamente quello che accade quando vediamo un'opera d'arte, leggiamo un libro. La funzione della cultura è quella lì, l'educazione, il linguaggio, è il naturale smussamento della belva che ci sta dentro. Per questo leggere primo Levi, i sommersi, i salvati, deve prima di tutto mostrarmi dov'è Hitler allo specchio e non nell'altro. Perché se Hitler è sempre l'altro, se il criminale è sempre l'altro e se io invece sono il buon selvaggio, il conflitto è inevitabile perché sto dando per scontato che la pace sia il mio stato naturale. E questa è una cazzata. Devo leggere primo Levi perché primo Levi, da vittima di Auschwitz, mi ha detto che lui ha riconosciuto in se stesso gli stessi semi dell'odio e della violenza che vedeva nei suoi aguzzini. Se da questo non apprendo che la cultura è il tentativo di dominare la naturale, spontanea tendenza al conflitto che mi pulsa dentro, non c'è salvezza per me. Per questo, considerarsi un buon selvaggio messo in catene dalla cultura e dalla civiltà è il modo perfetto per perdere il controllo della propria vita. Perché in questa visione la cultura diventa quasi indesiderabile. Signore e signori, siamo di fronte a un'epoca in cui non solo sempre meno persone vedono i libri, l'arte come qualcosa di costruttivo, ma addirittura si convincono che quella roba è indesiderabile. Vediamo dappertutto questa cosa qua. È un problema, è un problema enorme perché significa che abbiamo dimenticato la funzione della cultura. E la mia non è il tentativo di fare il moralismo a chi ha cultura. Anche chi ha cultura poi diventa l'ultimo degli stronzi. Non è quello il punto. Il punto è che dobbiamo tornare a riflettere sulla funzione della cultura e tornare a capire che la cultura ci dà gli anticorpi per il conflitto molto prima che i presupposti dell'eventuale conflitto vadano a scatenarsi e crescere fino a un'escalation. Certo che la cultura ha una catena, ma certo che lo è, caro Jean-Jacques Rousseau, ma è in catena la parte di noi che ci spinge spesso all'autodistruzione. Ed è questo che dobbiamo portare avanti ed è di questo che dobbiamo renderci conto. Negli ultimi decenni però le scienze sociali hanno sposato il paradigma russoiano del buon selvaggio e a quel punto noi possiamo andare a incasellare tanti autori e tanti testi anche molto importanti in questo frame interpretativo. Per esempio Marvin Harris con Cannibalieret oppure Bill Bryson con le sue opere anche molto divertenti di antropologia e storie dell'antropologia, antropologia culturale, con il mito che ormai ha trionfato nella cultura delle scienze sociali secondo cui il cacciatore raccoglitore era una persona più etica, più distesa, più pacifica e che poi in realtà è arrivata alla civiltà e la civiltà ci ha imbruttiti. Attenzione, Marvin Harris e Bill Bryson sono autori che io leggo e adoro e anche Jared Diamond da un certo punto di vista ha portato avanti questo tipo di visione. Visione che è una visione molto ideologica perché in realtà si basa su questo rovesciamento russoiano che il cacciatore raccoglitore era il buon selvaggio e poi è arrivata la civiltà che ci ha resi tutti brutti perché sono arrivati i guerrieri, i militari, i sacerdoti, dimenticandosi che in realtà la civiltà è lo sforzo per il mantenimento della pace che al di fuori di quella cultura non esiste perché al di fuori di quella cultura esiste soltanto la distruzione, l'autodistruzione. Oppure Yuval Noah Harari, Harari con il suo Sapiens e poi Homo Deus e tutti gli altri testi che porta avanti l'idea secondo cui l'uomo è stato addomesticato dalla civiltà agricola, cioè di nuovo che l'uomo al di fuori della civilizzazione era in fin dei conti una creatura dell'Eden. Ora la sto esagerando e voglio, è anche una provocazione, non voglio semplificare troppo Harari che è un altro autore che io apprezzo moltissimo su tanti aspetti, però c'è questa idea che in fin dei conti l'uomo si è fatto addomesticare, quindi è diventato schiavo di nuovo. L'uomo è nato libero ma ovunque è nelle catene della rivoluzione agricola e adesso della rivoluzione informatica e via dicendo e quindi la civiltà è una trappola, una grande trappola. Trappola che ovviamente tiene in sé i semi del conflitto. Ora, sono tutti autori che io leggo con piacere e che apprezzo ma che hanno nutrito una visione critica del processo di civilizzazione basato sul rovesciamento iniziato da Rousseau. La civiltà è il male e se non è il male la civiltà è il vero problema. Quando mi spiace signore e signori, ma non è così da nessun punto di vista. In tutto questo, peraltro, si inserisce un tema che mi sta molto a cuore, cioè che è il tema del male. Il male come risultato di relazioni e quindi nella società, nella politica, nell'economia, oppure come processo autonomo, come se il male fosse un'entità autonoma che nell'attualità, tanto per darvi insomma una chiave di riflessione, nell'attualità questa duplice interpretazione del male, si traduce da un lato in quello che è l'approccio geopolitico, cioè il conflitto fra Ucraina e Russia. Prendiamo questo esempio, ma possiamo prendere tanti altri. Era in qualche modo inevitabile, perché era inscritto nel modo deterministico con cui la civiltà si sviluppa. E questo è l'idea che il male sia sempre il risultato di relazioni molto complesse. Dall'altro, invece, c'è il male inteso come entità autonoma, che sfugge alle categorizzazioni delle scienze sociali. E quindi l'approccio più fucoltiano, poi in realtà non è esattamente così, ma è per farmi capire, c'è l'idea che è vero, la società è una cosa complessa, in cui possiamo fare statistica, guardare, capire, analizzare, però poi alla fine c'è un individuo, in questo caso Putin, che ha deciso e che le cose potevano andare in modo diverso e non c'è nulla di inevitabile. Sono due approcci molto interessanti, su cui torneremo, infatti questo è un tema per un'altra volta, però se volete, sicuramente è un tema che tratteremo giovedì sera, perché c'è la monografia su Carl Schmitt. Carl Schmitt, ho qua i libri, mi sono spariti i libri di Carl Schmitt. Bene. Ah, li ho messi lì nella sedia. Vabbè, amen. Quindi, pensavo di averli qua, invece no. Giovedì sera, comunque, Carl Schmitt, autore della teologia politica, autore che ha parlato della sovranità, del conflitto, del concetto di amico e nemico, è un autore molto problematico ma essenziale per capire questo nostro tempo, quindi siateci giovedì sera alle 21 in live su Twitch, il giorno dopo ovviamente esce in podcast e su YouTube, però se venite in live poi potete anche fare delle domande e quindi questo tema è molto interessante, ma è un tema per un'altra volta. In conclusione, dopo tutto questo, diciamo così, quadro che spero di aver ricostruito bene, per quanto sia suadente ed affascinante l'idea del buon selvaggio, questa ci porta a dimenticare che in noi albergano forze preculturali che se lasciate libere distruggerebbero i presupposti della pace. Perché la pace si mantiene in uno sforzo culturale collettivo, fatto proprio di quegli aspetti che compongono la civiltà, l'economia, il commercio, gli scambi, la politica e tutte queste cose si installano su quel sostrato biologico, psicologico, naturale che siamo, che ci porterebbe ad essere molto più simili alle belve che non degli esseri umani e che va dominato o domato ancora meglio se vogliamo mantenere quella pace. Il solo fatto di dimenticarci di tutto questo ci spinge a svilire il ruolo della civiltà che diventa una cosa superflua oppure una cosa addirittura negativa e malvagia e a indebolire quindi il nostro sforzo collettivo per mantenerci nell'innaturale stato di pace. Innaturale e desiderabile stato di pace. Perché è proprio una cosa che la civiltà si pone come traguardo. La pace si raggiunge, non è data naturalmente. È una cazzata immane quella di pensare che tutti quanti nascono in un Eden che viene rovinato dal diavolo della civiltà. Non c'è nessun motivo storico, psicologico, filosofico per sostenere una cosa di questo tipo. Quando il conflitto è rompe, quando è troppo tardi per mantenere la pace perché già abbiamo commesso quei fatali errori culturali che portano a sviluppare e a dare spazio a quelle parti di noi che poi portano agli scontri, al conflitto. Quindi quando il conflitto è rompe, far tornare la pace diventa molto più difficile che non mantenerla in un momento in cui la pace resiste. Ma io credo che si debba fare lo sforzo di capire come funzionano questi aspetti e di non assecondare gli istinti naturali pronti a lanciarci nelle fauci del caos che oggi vediamo imperversare nel mondo e che ci piaccia o meno abbiamo aiutato a uscire nella realtà proprio smettendo di trovare Littler allo specchio, smettendo di usare la cultura per domare prima di tutto me stesso, smettendo di capire che la civiltà, la cultura, è l'unica strada per riuscire a mantenere quella pace che richiede un sacco di sforzi per essere nutrita e mantenuta. E mi sentivo di dire queste cose qua e spero che, come sempre, queste cose abbiano permesso a qualcuno di voi di far girare qualche ingranaggio. Spero di essere stato esaustivo e interessante che siate d'accordo meno, insomma, i ragionamenti spero possano esservi utili e adesso direi che siamo arrivati alla fine della puntata. Quindi, quindi, grazie a tutti per aver ascoltato. Se siete in live non uscite, adesso abbiamo ancora qualche minuto insieme. Se siete invece indifferita, beh, ogni tanto dovreste venire a trovarci perché essere in live è molto molto più figo che essere indifferita. Siamo sempre in live alle 12 e alle 18 o alle 21 e mi raccomando non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao!